Ciao a tutti gli italiani, ho un messaggio per tutti voi. Mi chiamo Julian, ho 23 anni e sono smaraldon in questa fantastica azienda che si chiama OneCoin. Voglio dirvi che questa azienda è per tutti quanti, questo business lo può fare chiunque, perché posso dirvi su di me che sono molto giovane, molto determinato e fino a un paio di anni fa ero un ballerino professionista di breakdance e oggi sono un leader di questa fantastica azienda OneCoin. Ve la voglio far vedere, più che altro spiegare, perché noi qua persone, comuni, ci divertiamo, diventiamo amici, aiutiamo tantissime altre persone a migliorarsi la vita, a crescere personalmente, a farsi tantissimi amici e perché no, visto che il denaro non è un nemico, a guadagnare tanti soldi e cambiarsi la vita. In questo momento mi trovo qui in Koh Chang, cosiddetta l'isola dell'elefante, siamo in Thailandia, in tour, in una festa per i leader di questa azienda, della nostra squadra che si chiama OneDreamTeam, con a capo i frantelli Stan Keller, con Stefan Libak, e voglio farvi vedere che stile di vita che abbiamo, dove finirete se volete lavorare con noi e se volete realizzare i vostri sogni. Siamo qui su questa bellissima isola, è fantastica, vi dico la verità, è un paradiso terrestre, non voglio morire più per andare nel paradiso perché si sono già e voglio farvi vedere come ci divertiamo, chi è questa gente, innanzitutto siamo in una bellissima villa e qui c'è un po' di gente, tutti quanti fanno quello che li pare, ciao! e andando un po' più avanti voglio farvi vedere un po' lo stile di vita, i fratelli Stan Keller e Stefan Libak che sono i nostri offline, sono delle persone fantastiche! Udo Deppi! allora ragazzi, è questo che si chiama business! a fare una bene, vi dici a tutti i nostri meglio, togli azari, invece di Representatives에 a fare una buona, è www.swithin.com e un nuovo ragazzo che siamo in una buona, è un po' di gente, ci sono chcioli dei libri e, 3, due, a tutte le nomi, sviluppé una buona, è un po' di gente, a tutti i nostri spielli dei libri diours e gli investimenti, ci sono affari la vita, e ci sonomindedni, ci sono una buona, è una buona, è un po' di gente, e tutti i nostri spielli, ci sono sempre fai un po' di gente, ci sono ancora una buona, è un po' di gente, E' così che va la vita ragazzi, non è un business, si si fanno tantissimi soldi, è vero, perché i soldi sono molto importanti nella vita, però ci divertiamo, viaggiamo in giro per il mondo e tu puoi far parte di questo fantastico team, potresti entrare con noi, con le persone giuste, nel momento giusto, nell'azienda giusta, con l'attitudine giusta e puoi vivere la vita dei tuoi sogni, pensaci, non troppo, perché le persone di successo si identificano dal modo in cui fanno le decisioni, buone o cattive, l'importante è decidere veloce, perché sapete benissimo che il tempo passa e neanche il denaro lo può comprare, guardarci, con me, con voi o senza di noi, questa azienda qua fa i miracoli, questa azienda in un anno di esistenza ha fatto un miliardo di dollari in volumi di vendita, siamo 1.3 milioni di persone in questa azienda in un anno e 4 mesi e ve lo garantisco che le persone che fanno qui così tanti soldi sono delle persone fantastiche, semplicissime, quindi la verità è che parlo con te, persona normalissima che magari ha un luogo di lavoro, che non ti soddisfa, magari ti piace, magari no, però comunque vorresti di più della vita per la tua famiglia, per i tuoi figli, per i tuoi nipoti, questa è un'azienda che ti può dare tutto quello che tu vuoi, questa è un'azienda che può darti di più, che può realizzarti i sogni, ci devi mettere un po' di credo e un po' di lavoro, però comunque non farai gli sacrifici che fai nella vita normale, ma sarai ripagato mille volte di più, si, parlo anche con te, grande leader, magari di un'altra azienda di network marketing, che magari stai guadagnando tanti soldi, ma comunque stai lavorando molto di più e sai benissimo che potresti valere molto di più per il lavoro che stai facendo e non sei soddisfatto, si, è arrivata la tua ora, entrando in questa azienda salirai al prossimo livello, te lo assicuro, per me è stato così, sono da tre mesi in questa azienda e già mi ha cambiato totalmente la vita e non sto per niente scherzando, sto viaggiando tutto il mondo, conosco culture diverse e giustamente quando guardo nelle mie tasche ho soldi, ho soldi per pagare la casa, per la macchina, per avere una storia di vita direttamente proporzionale al mio livello di leadership e parlo di tanti soldi che potresti fare anche tu, abbiamo la leadership migliore in questa azienda e nell'intera industria del network marketing, abbiamo Juha Parchiara che fa 1.6 milioni al mese, dopo un anno e tre mesi di lavoro, abbiamo i fratelli Stan Keller che sono qua con noi, fanno 900 mila euro al mese in otto mesi di business, stiamo scherzando in nessun'altra azienda di network marketing, in tutta la storia dell'industria dell'industria del network marketing, non si è mai sentita una cosa del genere, se non credete informatevi, non rimanete fuori, entrate dentro, il mercato italiano è appena aperto, è intoccato e quindi contattatemi che cominciamo con l'Italia, contattatemi perché è arrivata la vostra ora, non aspettate, vi aspetto qui, nella One Dream Team, dove i sogni possono diventare realtà, un bacio a tutti quanti, One World, One Coin!